Dopo il decesso di Lorenzo Carrerri, il 18enne di Cessalto, rimasto vittima di uno schianto a bordo di uno scooter a Torre di Mosto sabato scorso e la morte di Giovanni Laurino, il 19enne di Porto Gruaro, che ha perso la vita in autostrada dopo essersi schiattato contro il guardrail, un altro incidente stradale ha causato una vittima a San Michele al tagliamento. È successo domenica sera, poco prima delle 23, in corrispondenza della curva di Prati Nuovi. Amira Lissied, commerciante 54enne pakistano con un negozio in centro a Bibione, ha perso la vita dopo essersi scontrato con l'auto guidata da un 53enne di Latisana, che aveva a suo fianco una donna di 52 anni, residente a Trieste. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Latisana, ma senza gravi conseguenze. Il peggio l'ha avuto il 54enne. Per restare il corpo di Amira Lissied è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia Municipale di San Michele al tagliamento per ricostruire la dinamica. La strada regionale è stata chiusa circa un paio d'ore per permettere ai soccorsi di lavorare.